Questo è un video in cui diciamo la verità. E nient'altro che la verità. Perché gli uomini si accontentano? Cosa intendi, chiaramente? Questo è un altro di quegli discorsi che volevo appunto fare, volevo fare con te, perché mi capita molto spesso di avere persone che comprendono quelle che sono le loro difficoltà e quindi fanno di tutto per raggiungere i loro obiettivi. Mi capitano altrettanto spesso però, purtroppo, persone che nonostante diciamo sanno benissimo che il percorso che devono diciamo intraprendere per arrivare al loro obiettivo è molto lungo, perché magari partono da un livello molto molto sparso, sì, marcio, si accontentano di quei pochi risultati che riescono ad ottenere nel breve termine, sostanzialmente. Tipo persone che magari mi sono capitate nel tempo, per fortuna non sono tanti, però purtroppo è così e bisogna dire le cose come stanno, persone che, che ne so, parto con una consulenza argento, ok? Con un consulenza argento, mettiamo a posto i profili, facciamo qualche foto, gli dico come fare la descrizione, chattiamo con qualche persona, esce fuori qualche appuntamento, ovviamente non grazie alle capacità dello studente, ma grazie al mio aiuto, al mio supporto, che ovviamente in questa conoscenza è stato assolutamente necessario per far sì che lui uscisse con questa ragazza. Poi magari l'appuntamento non va molto bene, si sente con altre ragazze, insomma, classiche cose che accadono durante le consulenze, ci si sente sistematicamente con più ragazze, ogni tanto qualcuno, per fortuna va tutto bene, si fidanza, siamo tutti quanti felici, abbiamo raggiunto l'obiettivo, ogni tanto qualcuno esce con più ragazze e non ottiene alcun tipo di risultato perché dal vivo è scarso, senza troppi giri di parole. Finisce la consulenza, facciamo la parte pratica, dal vivo bloccato completamente, fa due, tre, quattro conoscenze al massimo, poi è bloccato completamente, va bene Davide, grazie per il percorso, adesso provo ad andare avanti con le mie gambe. Ma la mia risposta è sempre la stessa, ma dove pensi di andare? Cioè io, per carità di Dio, sono veramente felice se una persona davvero faccia questo tipo di cosa, ma so benissimo che non è così, che mi stai mentendo, che ti senti talmente a disagio ed è sbagliato, nonostante tutto il percorso mentale che abbiamo fatto assieme. So benissimo che tu non farai assolutamente nulla per continuare questo tuo percorso in totale autonomia. Perché? Perché è difficile scendere in piazza da solo, perché è difficile gestire i no, è difficile chattare con una persona che ti parla sempre a monosillabi. E non ti basterà un mese, tu che sei partito da zero. Lo sai benissimo, lo sapevi fin dall'inizio. Quindi questa sostanzialmente è una sorta di menzogna, una menzogna dettata da un uomo che si accontenta, che si accontente di avere anche un piccolo misero risultato e gli sta bene così. Questo purtroppo però si riflette anche sulla propria vita, ok? Sulla propria attività magari lavorativa, si riflette sui rapporti umani che lui si è creato nel tempo. Si accontente di avere degli amici nonostante non è appagato dal tipo di amici che ha. Nonostante non è preso schernito, viene preso per il culo. Esatto, si accontenta di una ragazza perché è l'unica che gli dà attenzioni. Cioè, questo tipo di atteggiamento purtroppo da persona di poco valore, cioè a lungo termine non ti appaga a livello proprio emotivo di felicità. Non sarai mai del tutto felice. Io ho un'altra teoria, io ho un'altra teoria oltre a questa. È relativa al fatto che non essendo abituati ad investire denaro sulla loro persona in questo ambito, e magari sono abituati a investirlo in altri ambiti, trovano strano farlo una volta e trovano inutile continuare a farlo per un secondo, un terzo, un quarto, un quinto, un sesto, un settimo, un ottavo, un nono, un decimo mese. Assolutamente. Cominciano questo percorso, questa consulenza, esclusivamente perché non vogliono migliorarsi, ma perché vogliono delle attenzioni da parte di qualcuna. Ed è completamente un atteggiamento sbagliato. Sbagliato. Perché è l'unica persona con la quale conviveremo per tutta la vita. Cioè, siamo noi. Siamo noi che ci guardiamo allo specchio tutti i giorni. Noi se non siamo soddisfatti della nostra vita, questa cosa qua si rifletterà dappertutto. Eh, ma mi voglio concentrare sul lavoro. Ma non sarai comunque pagato a livello emotivo. No, cazzate, sono scuse dettate dal fatto che non hanno voglia di dare continuità. Un altro motivo è perché vedono che è dura. Vedono che non è così facile come invece vedevano dei video o vedevano degli screen, eccetera, eccetera. Assolutamente, perché ci sono persone che con una consulenza argento esplodono. E persone che con una consulenza oro, cioè, sono praticamente migliorati dell'1%. Però migliorare dell'1% giorno dopo giorno, mese dopo mese, a fine anno, caspita. Cioè, il miglioramento poi è palpabile. È un qualcosa di assolutamente appagabile. Francesco Franci è partito da zero e, cioè, è in caso trainer. Esatto. Ma perché è successo questo? Perché il suo tipo di mentalità l'ha spinto a desiderare di raggiungere un certo tipo di livello, che è alto. Perché io quando parto per migliorarmi, io voglio raggiungere il livello di una Ferrari. Non mi accontento di una panda scassata. Ok? Non mi accontento. Questo, tra l'altro, è un tipico atteggiamento che alle donne piace molto. E che quindi, se manca alla mentalità di questa ragazza, di questo personaggio, che si accontenta, purtroppo, allontanerà tutte quelle ragazze che a lui sistematicamente attraggono. E attirerà solo ed esclusivamente ciò che merita. Quindi persone uguali, diciamo, a lui, che hanno comunque basso valore. Questo senza denigrare nessuno perché... Ultima domanda. Tu hai mai risentito questi personaggi subito dopo il... Assolutamente sì. Assolutamente sì. Capita più volte. Ma perché questo? Perché il loro percorso non è completo. E quindi cosa fanno? Si ritrovano, punto e capo, e mi ricontattano. Davide, sei libero per farti un'altra consulenza? Va bene. Sai benissimo, però, che al tuo livello questo, questo e quest'altro c'è da fare. E là lo capiscono, però. Qualcuno sì. Qualcuno a cadenza mensile si rifà vivo. Va bene. Grazie. Ci vi andiamo domani al Master. Esatto. Grazie. Ciao, Steve. Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao, ciao.